L'assalto di musica di Canta Media Ho visto qualcuno ondeggiare Adesso siamo perditi, è un po' di finito perché poi si è svegliato Allora facciamo... Ah la nostra grande... Ah no, Elisabeth facciamo Diciamo Elisabeth è un pezzo nuovo, viva! Allora facciamo 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 Nonostante il nostro simpatico pop Sporruata come una rockstar di rock and roll fantastico sangue Si vedi la lì? Chris, potresti fare qualcosa per il mio cuore? Non lo vedi? Non lo vedi? Ok, due più a tutti Allora facciamo 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 Grazie. Grazie.